Quante pillole prende in una giornata? Non è facile da dire, dipende dal livello del dolore. A volte sono sei, otto, dieci. Ce le ha mai prescritte di suo pugno? Sì. Perché? Glielo ha imposto lui? Mi ha chiesto di farlo. La medicina è una calamita per le persone che si sentono attratte dal potere. So quanto lui odi essere provocato da un paziente. E dubito molto che accetti eventuali provocazioni dal suo staff. Mi corregga se sbaglio, ma io non credo che il dottor House sia così portato a chiedere. Credo che a lui sia tutto dovuto. E ho la sensazione che lei si sia messo nei guai mentendo alla polizia per coprire qualcosa che non avrebbe voluto fare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti